Come è nata la tua passione per il pattinaggio? Circa 12 anni fa ci siamo trasferiti a Vergine. Mio fratello nella sua classe ha incontrato un sacco di ragazzi che facevano pattinaggio a velocità e per questo motivo ha deciso di iniziare. Anche io in curiosità ho iniziato e da lì non ho permesso. Quanto tempo ti alleni durante la settimana? Come ti organizzi con la scuola? Durante la settimana mi alleno 3 ore al giorno ogni giorno, mentre durante il weekend faccio le gare. Organizzarmi con lo studio è molto difficile e per questo motivo riesco a studiare solo dopo cena. Come è stata la tua esperienza ai mondiali junioris in Canada? Che emozioni hai provato? La mia esperienza ai mondiali junioris in Canada è stata bellissima. L'anno scorso non mi sarei mai aspettata di riuscire a raggiungere un obiettivo così grande, però sono andata lì senza troppe aspettative e questo forse vi ha aiutato ad avere un risultato così bello. Com'è stato salire sul podio? Salire sul podio è stato molto emozionante e ha ripagato tutti i sacrifici che ho dovuto fare negli ultimi anni. La cosa più bella forse è stata salirci con le mie tre compagnie di staffetta. Qual è stata la vittoria più bella a livello individuale? Quest'anno la vittoria più bella a livello individuale è stata il primo posto nei campionati italiani junior, dove sono riuscita a vincere anche se gareggiavamo con la categoria superiore e quindi ho potuto scontrarmi con persone che avevano anche tre anni in più di me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.